16, 183, 228, quella 16, 186, in pista A, 7, le copie 1,837, 343, in pista B, sulla via destra, finale, a 12, 15, a 6, 30, le copie 81, 85, 113, 188, 209, 246, in pista B, 2,837, grazie, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.